Buongiorno a tutti e vorrei ringraziare il Dipartimento per il Servizio Civile Universale per questa opportunità e il Formez ovviamente per l'organizzazione. Allora vado subito diciamo ai contenuti per non togliere tempo anche agli altri relatori e la mia presentazione oggi è finalizzata a spiegare quello che è stato un po' l'allineamento che ha portato poi all'elaborazione dei nuovi vettori di sostenibilità contenuti nel nuovo testo di strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile a partire dal Green Comp ma anche dai principi guida di Agenda 2030. Ecco diciamo che appunto facciamo un passo indietro al 2015 perché per noi è fondamentale credo che questo quadro spero sia familiare un po' per tutti rappresenta i 17 obiettivi contenuti in Agenda 2030 ma mi vorrei soffermare più che altro sui principi dell'Agenda capirete poi nella presentazione del perché i principi di Agenda 2030 diventano fondamentali sia per la strategia sia per l'educazione per lo sviluppo sostenibile. L'Agenda introduce innanzitutto il principio dell'universalità e della responsabilità condivisa è una svolta questa nelle politiche di sostenibilità perché i suoi obiettivi interessano tutti quindi i paesi industrializzati sono coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi quanto i paesi in via di sviluppo. L'altro elemento è quello dell'integrazione. tutti gli obiettivi sono assolutamente integrati fra di loro quindi non finisce il cosiddetto come viene chiamato a livello internazionale Silos Approach cioè il concentrarsi su un unico obiettivo ma è necessario attuare proprio un sistema di ragionamento che prevede l'interconnessione fra tutti questi obiettivi. Quindi finisce anche il discorso che la sostenibilità è un tema ambientale quando parliamo di sostenibilità dobbiamo considerare i tre ambiti e quindi quello dell'ambiente, della società e dell'economia. Questi principi li vedete qui descritti quindi all'interconnessione come vi ho già spiegato e quindi crea anche una complessità nel sistema l'indivisibilità dei singoli obiettivi e il bilanciamento fra le tre dimensioni. Quindi Agenda 2030 ci dice una cosa molto importante cioè che parlare di sostenibilità significa parlare di un sistema complesso in cui ci sono delle sovrapposizioni e delle connessioni che vanno comprese e capite. Quando parliamo di dimensioni non ci riferiamo soltanto alle dimensioni dei tre pilastri quindi come vi ho detto prima ambiente, economia e società ma parliamo anche di una dimensione globale e di una dimensione locale della sostenibilità. Questo per me è stato un principio guida nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile che si è concentrata sul livello di visione strategica nazionale ma anche sul livello attuativo quindi di collaborazione con le regioni e gli antilocali. La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile viene approvata nella prima versione nel 2017 con ovviamente la sua definizione prende le mosse da una norma che è il decreto legislativo 152 e la legge 221 che prevede anche una revisione triennale di questo documento. La strategia si ispira in pieno ai principi che vi ho descritto prima di Agenda 2030 e prevede anche un processo di monitoraggio e valutazione degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli. La norma prevede come vi accennavo prima anche un livello locale cioè che significa? Significa che le regioni devono dotarsi di strumenti strategici di sostenibilità proprio a livello regionale e questo è il percorso che noi abbiamo attuato in questi anni. La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile come contenuto ricalca come struttura l'Agenda 2030 quindi è strutturata in cinque aree che ricalcano le cosiddette 5P persone, pianeta, prosperità, pace e partnership ed è suddivisa in scelte strategiche, obiettivi strategici nazionali e strumenti di attuazione. Fa propri i principi che vi ho descritto prima integrazione, universalità, inclusione e trasformazione. L'elemento che vorrei sottolineare in questa presentazione perché di fondo parliamo di Green Comp, competenze ed educazione è che nella strategia è presente una sesta area cosiddetta dei vettori di sostenibilità. Cosa sono i vettori? I vettori sono le leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi. Sono innanzitutto elementi trasversali agli obiettivi di sostenibilità e nella strategia del 2017 sono questi che vedete rappresentati quindi istituzioni, partecipazione e partenariati, educazione, sensibilizzazione e comunicazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e progetti, modernizzazione della pubblica amministrazione, riqualificazione della spesa pubblica e conoscenza comune. Rispetto all'educazione abbiamo detto appunto che la strategia la inserisce fra i vettori trasversali. L'agenda 2030 in realtà come sappiamo dedica un obiettivo specifico che è l'obiettivo 4 all'educazione e il target 4.7 che si riferisce nello specifico all'educazione per lo sviluppo sostenibile. L'elemento però che vi voglio sottolineare è che l'agenda 2030 inserisce moltissimi target sotto gli altri obiettivi riferiti all'educazione, primo fra tutti il cambiamento climatico. Quindi l'elemento di trasversalità dell'educazione rimane anzi è sottolineato anche in agenda 2030 che gli dedica comunque un obiettivo. Qui allora ho riportato il target 4.7 per sottolineare, in particolare vorrei attirare l'attenzione sulla descrizione, cioè l'educazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti di ugualianza di genere, la promozione di una cultura di pace e della non violenza, la cittadinanza globale, il contributo alla cultura dello sviluppo sostenibile. Come potete vedere non si fa riferimento a nozioni, ma si fa riferimento a valori. Il tema dei valori è un tema che è stato ripreso dal Green Comp, ma è un tema fondamentale che riguarda l'educazione per lo sviluppo sostenibile. Vediamo che già l'agenda 2030 si esprime in termini di valore. Nel 2021 UNESCO ha convocato una conferenza mondiale sull'educazione per lo sviluppo sostenibile che si è tenuta a Berlino ed è stata approvata una dichiarazione in cui questa dichiarazione fa riferimento all'apprendimento trasformativo. Qui vi ho riportato questo diciamo summary grafico che è stato fatto perché secondo me rende la complessità del mondo dell'educazione per lo sviluppo sostenibile delle diverse responsabilità. Ma che cos'è l'apprendimento trasformativo? Sentirete parlare molto per chi si occuperà di educazione di apprendimento trasformativo. Significa cambiare le prospettive di significato. Come si fa a cambiare le prospettive di significato? Bisogna mettere in discussione quello che si conosce e capire quello che non si conosce. Quindi non è soltanto una conoscenza su ciò che non conosciamo e non fa parte delle nostre vite, ma è anche mettere in discussione la nostra stessa vita. Quindi cambiare profondamente le nostre convinzioni e comportamenti. Come vedete la diciamo trilogia che interessa l'apprendimento trasformativo coinvolge una sfera emotiva, una sfera cognitiva per arrivare al cambiamento di azione. Come vi ho detto all'inizio la norma che prevede la definizione di una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile chiede anche una revisione triennale di tale documento che è stata avviata nel 2021 ed è stata strutturata in tre fasi. Una prima fase ha previsto il disegno e l'ideazione è stato, ci tengo a sottolinearlo, un processo partecipato fin dall'inizio come è stato il processo di attuazione. Quindi sono stati convocati gli altri ministeri, le istituzioni centrali, le regioni, le città metropolitane e la società civile. Fin dalla prima fase che vedete disegno ed azione sono stati attivati degli strumenti, tavoli di confronto. La seconda fase della revisione ha previsto la condivisione e il consolidamento, quindi è stata predisposta una bozza che è stata poi condivisa con gli attori che hanno poi partecipato al processo di attuazione, ma non solo perché è stata condivisa con tutte le amministrazioni centrali. La fase 3 è quella della finalizzazione, quindi nel luglio 2022 il documento ha fatto già dei passaggi formali in conferenza Stato-Regioni e attualmente è in fase di approvazione da parte del CITE. Quindi esiste già un nuovo documento in strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Vedremo adesso come l'evoluzione che c'è stata anche grazie al contributo del Green Comp e ad altri processi internazionali che vi ho descritto su la definizione dei vettori. Il processo di revisione ha tenuto conto ovviamente di tutti i contributi che sono emersi nel processo di attuazione e siamo partiti dalle esperienze esistenti. Quindi ricordando anche la dimensione locale che prima vi ho descritto anche in riferimento a Agenda 2030, quello che abbiamo fatto è stato anche quello di valorizzare l'esperienza a livello regionale, a livello di città che sono state realizzate ma anche sono state riconosciute dal Ministero in questo processo in questi anni. Quindi siamo partiti nel valorizzare l'esistente. L'altro elemento fondamentale è proprio quello del ricostruire il sistema dei vettori proprio appunto a partire da quello che avevamo vissuto come esperienza nel processo di attuazione e rafforzare gli spazi di collaborazione. Infine, non per ultimo, perché è un elemento importantissimo, il dialogo con la società civile, con il Forum per lo Sviluppo Sostenibile che ha un ruolo fondamentale anche nel monitoraggio e nella valutazione della strategia nazionale. Qui vediamo che ritorniamo un po' ai principi iniziali che comunque per noi sono la base guida sia nell'attuazione, sia sono stati nell'attuazione e nella revisione della strategia, quindi alimentare il confronto e l'apprendimento, diffondere l'approccio sistemico, quindi considerare e lavorare avendo a mente tutti gli obiettivi di sostenibilità anche all'interno delle amministrazioni, sfruttare il potenziale della ricerca e quindi attivare anche un discorso di coinvolgimento delle università proprio per avere idee innovative e innovare anche il sistema della strategia nazionale. Nel processo di revisione, appunto come vi ho detto prima, un ruolo importante lo hanno sicuramente l'area dei vettori e in particolare l'educazione per lo sviluppo sostenibile. Quello che noi abbiamo fatto nel processo di attuazione è stato quello già di integrare alcuni processi educativi, ad esempio con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'educazione alla cittadinanza globale. Il target 4.7, come avete visto, fa riferimento anche ai valori dell'ECG, dell'educazione alla cittadinanza globale, che sono assolutamente integrati a quelli della sostenibilità. Quindi già è stato fatto nel processo di attuazione ed è stato valorizzato nei nuovi vettori il lavoro di integrazione anche con questi processi che riguardano diverse educazioni. Poi vedremo che significa integrare, diciamo, anche diversi processi educativi. Nel luglio 2021, sempre per creare un processo di coinvolgimento e di ripensamento dei vettori, è stato organizzato un incontro in modalità World Cafe, quindi molto informale, a cui hanno partecipato tutti gli attori del processo di attuazione della strategia nazionale e è stato chiesto proprio di fare una specie di brainstorming sui temi, in particolare in questo caso quello che vi sto mostrando è il vettore cultura per la sostenibilità, quindi sui temi educativi e della formazione. Qui vi ho riportato alcuni elementi che sono emersi. Il primo, la ricomposizione della frammentazione educativa, quello che vi dicevo, di cercare di integrare i processi che vengono fatti, come abbiamo fatto con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e creare un processo comune e condiviso di collaborazione. A livello locale è stato fatto, ad esempio, con chi lavora nei centri di educazione ambientale attraverso le regioni, quindi ricomporre il sistema educativo per la sostenibilità. Il policentrismo formativo, qui sono emersi moltissimi spunti riguardo alla formazione, per formazione si intende non solo quella degli educatori, ma anche dei funzionari della pubblica amministrazione. Vedremo che su questo anche il Green Comp definisce delle competenze ben specifiche, anche legate alla visione di futuro, il ripensamento dei luoghi, anche della formazione e dell'educazione formale, come la scuola. L'altro punto è quello del polimorfismo formativo, qui c'è un refuso, ovviamente, e quindi riconoscere le dinamiche che ci sono anche a livello locale e valorizzarle. L'ultima è sulla comunicazione, ma non mi soffermo molto, perché diciamo il vettore poi si sviluppa su due ambiti e oggi vorrei più che altro soffermarsi su quello dell'educazione e della formazione. Gli altri elementi che sono emersi durante questo incontro sono stati il tema della visione comune, dell'ascolto e della condivisione, quindi del fare rete, questo è emerso più che altro dai funzionari anche che hanno partecipato delle regioni e delle città metropolitane, che comunque a livello locale sono anche abituati ed esistono già delle reti che lavorano sul territorio e l'altro tema è quello della ownership istituzionale, si intende il vedere da parte delle istituzioni, cioè la responsabilità che hanno le istituzioni di riconoscere i soggetti e le attività, le reti che già esistono a livello territoriale e valorizzarle. Un problema che è emerso, ad esempio, è quello che a livello di educazione ci sono moltissime realtà che non hanno una ownership istituzionale, che quindi non hanno modo poi di, diciamo, portare avanti il loro lavoro nel tempo anche per un fatto di risorse economiche e quindi è importantissimo che l'istituzione riconosca e si accorga di questi processi. L'ultimo è quello legato alle competenze, alla coprogettazione, quindi il tema, ad esempio, della creatività e dell'innovazione. La creatività è un altro elemento che viene ricordato non soltanto dal Green Comp, ma è un elemento importantissimo per chi fa educazione per lo sviluppo sostenibile, gli spazi di partecipazione e la condivisione delle esperienze. Come vi ha già annunciato la dottoressa Losco, nel gennaio 2022 è stato pubblicato il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità da parte del Joint Research Center, che è appunto l'ufficio che si occupa di ricerca della Commissione Europea, e qui ho riportato un estratto della comunicazione della Commissione Europea, che è strettamente collegata per la pubblicazione del Green Comp. La comunicazione era proprio sul tema dell'educazione per lo sviluppo sostenibile e nella comunicazione ci viene detto che è necessario attuare un cambiamento profondo e sistemico nell'istruzione e nella formazione. Un altro elemento importante è che nella comunicazione dice che tutti gli educatori siano educatori alla sostenibilità. È veramente, diciamo, un passo importante per chi si occupa di educazione, questo perché significa riconoscere finalmente che lo sviluppo sostenibile è un approccio sistemico alla vita e non riguarda soltanto l'ambiente. Questo è il quadro delle competenze su cui appunto mi soffermo poco perché ci sarà la dottoressa Mayer che entrerà nello specifico e vi cito soltanto le quattro aree che sono incorporare i valori di sostenibilità, come vi accennavo, il tema dei valori è fondamentale, abbracciare la complessità, la complessità è un altro tema che vi ho citato prima e che nasce da Agenda 2030, la visione di futuro e agire per la sostenibilità. Questa è la nuova definizione dei vettori nel testo della strategia per lo sviluppo sostenibile. I vettori sono tre, coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, cultura per la sostenibilità, partecipazione per lo sviluppo sostenibile. cultura per la sostenibilità ingloba due ambiti, educazione e formazione, informazione e comunicazione. Ogni vettore è suddiviso per obiettivi, traiettorie, strumenti, relazione con il piano nazionale per la coerenza delle politiche e attori. Qui allora vedete le traiettorie del vettore cultura per la sostenibilità nell'ambito educazione e formazione e il primo obiettivo riguarda qualificare il sistema dell'educazione e sviluppare le competenze per la sostenibilità. ci sono moltissime relazioni con il quadro europeo, quindi si parla dei valori della pace, dell'equità, dell'inclusione, riferendoci anche all'agenda 2030, potenziare le competenze dei discenti necessarie a promuovere uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili, educando alla complessità. L'obiettivo 2 fa riferimento alla formazione, quindi promuovere percorsi di formazione e capacitazione istituzionale, quindi quello che vi dicevo, la formazione dei funzionari pubblici, basandosi anche su metodologie di anticipazione di futuro e riprogrammazione. Qui si inserisce quella che viene richiamata anche nel Green Comp come visione di futuro. Promuovere percorsi formativi orientati all'acquisizione di nuove competenze professionali relative a settori strategici per lo sviluppo sostenibile. Promuovere la formazione dei formatori attraverso nuovi percorsi accademici. Qui il ruolo delle università, degli enti di ricerca e di quanti si occupano appunto della formazione dei formatori e degli educatori. L'ultimo obiettivo è sul rafforzamento dell'educazione puntando sulle sinergie, l'approccio collaborativo che vi ho citato prima è il riconoscimento delle esperienze esistenti, la responsabilità istituzionale e un altro elemento importante è il protagonismo delle nuove generazioni e soprattutto anche le nuove narrazioni sulle nuove generazioni e linguaggi. Una settimana fa abbiamo organizzato un workshop proprio sui giovani e le nuove narrazioni e devo dire che è un tema molto molto interessante per noi che lavoriamo per le istituzioni, anche per individuare i linguaggi comuni e che creano il dialogo con i giovani. Qui vedete un po' quello che vi ho diciamo spiegato adesso, ci ho riportato la relazione effettiva che c'è fra le traiettorie dei vettori e le competenze inserite nel Green Comp come vedete sono moltissime e ad esempio voglio soltanto sottolineare la 2.1, cioè rafforzare le competenze decisionali per lo sviluppo sostenibile e la coerenza delle politiche pubbliche, orientarsi nel sistema politico e richiedere politiche efficaci per la sostenibilità secondo me è una delle competenze veramente importanti perché significa avere un ruolo attivo anche nella definizione delle politiche e capire che le nostre scelte di vita fanno parte comunque della vita politica, questo da parte del cittadino, da parte delle istituzioni, significa assumersi la responsabilità e la coerenza di quello che viene fatto e assicurare che ci sia appunto coerenza fra documenti strategici e l'agire poi effettivamente per il cambiamento e da questo anche valutare quello che le istituzioni fanno e migliorare diciamo l'azione politica e istituzionale. Vi ringrazio molto e sono antisemitiche